Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con lo scontro tra ASL e politica sui tagli e presidi di guardia medica nel Terramano. Mariani, Monticelli e Dino Pepe del Partito Democratico parlano di decisione non condivisa dalla politica mentre Sottanelli prepara un'interrogazione al Ministro della Salute. Intanto la ASL apre ad eventuali modifiche rispetto alla sforbiciata di sette guardie mediche. Il servizio è di Alfredo Primante. Arriverà fino a Montecitorio la polemica partita dalla provincia di Terramo sul taglio al servizio di guardia medica. I cittadini saranno costretti a spostarsi di molti chilometri o a riversarsi nei pronto soccorso anche per problemi banali e meno gravi. Così il deputato di scelta civica Giulio Sottanelli che sta predisponendo una nuova interrogazione al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin che sarà presentata alla ripresa dei lavori parlamentari. Oggetto del contendere in particolare tre sedi di guardia medica Castellalto, Colledara e Nereto per le quali è prevista la chiusura già dal 1 ottobre per effetto di una recente delibera della ASL Terramana che prevede la chiusura di sette sedi di guardia medica Campli, Castellalto, Cermignano, Colledara, Fano Adriano, Nereto e Valle Castellane in modo definitivo oltre allo spostamento della sede di Torricella a Rocca Santa Maria. E l'ennesimo schiaffo alle aree interne che oltre a subire il persistere della crisi economica ora vedono anche negato il diritto alla salute e questo il commento piccato del sindaco di Colledara Manuele Tiberi mentre si dice pronto a dare battaglia anche il sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco. La replica della ASL di Terramo è affidata ad un comunicato della Direzione Generale in cui non si esclude la possibilità di rivedere le decisioni qualora si manifestassero reali esigenze assistenziali. Nella nota dell'azienda sanitaria viene anche ricostruito tutto l'iter di questa decisione evidenziando che la scelta delle sedi è stata fatta tenendo conto sia del numero di visite effettuate in ogni sede sia sulla base della distanza chilometrica tra una sede e l'altra. Di un atto della ASL che non ha avuto alcuna condivisione politica infine parlano i consiglieri regionali del Partito Democratico Mariani e Monticelli e l'assessore Dino Pepe. In un comunicato congiunto dicono di essere assolutamente consapevoli dell'importante processo di riorganizzazione funzionale della medicina territoriale ma chiedono che i cambiamenti avvengano gradualmente per garantire ai cittadini il mantenimento prima ancora del potenziamento dei servizi esistenti. La giunta regionale riunitesi questa mattina a Pescara ha approvato la delibera che destina 229 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione a lavori di manutenzione della rete viaria nelle quattro province e al potenziamento dei depuratori su tutto il territorio regionale. Alle strade provinciali sono state destinate in totale 100 milioni di euro 28 milioni alla provincia di Chieti, 26 a quella di Teramo, 24 a quella di Pescara, 22 a quella dell'Aquila. Altri 100 milioni invece sono stati assegnati all'implementazione del sistema depurativo 30 milioni per la realizzazione dei nuovi depuratori a Pescara e a Spoltore altri 70 milioni andranno a finanziare il sistema depurativo al servizio di zone turistiche e urbane del Teramano, dell'Aquilano e del Chietino. Gli ulteriori 29 milioni infine verranno assegnati ai comuni per progetti sull'impiantistica sportiva, sul turismo e la cultura. E un'intera area agricola a rischio, il Movimento 5 Stelle denuncia la realizzazione di una piattaforma per il trattamento e il recupero dei sedimenti di dragaggio che dovrebbe sorgere a Città Sant'Angelo. Secondo le carte l'area sarebbe definita industriale, a rischio importanti culture DOP e IGT. Il servizio è di Francesca Romana Testi. Un'interpellanza rivolta al presidente della regione Luciano D'Alfonso che arriva dopo segnalazioni di associazioni e cittadini di comuni interessati dalla realizzazione di una piattaforma per il trattamento e il recupero dei sedimenti di dragaggio fluviali e marino costieri. Il nacciolo della questione ruota intorno ad una contraddizione tra carte e stato effettivo dell'area. Se da un lato l'area interessata, località Piano di Sacco, a Città Sant'Angelo risulta come zona industriale, dall'altra sono i residenti a denunciare che quelle aree sono a vocazione prettamente agricola e soprattutto da quelle aree arrivano alcuni dei più blasonati prodotti da Abruzzo a marchio DOP e IGT. Sì, intanto è una battaglia che stiamo conducendo ormai da mesi con tutta una serie di associazioni ambientaliste e comitati. Abbiamo partecipato al comitato via regionale, abbiamo interessato i massimi vertici della regione Abruzzo per bloccare questa operazione che a nostro avviso impatta fortemente sull'ambiente e sul territorio. Parliamo di Piano di Sacco di Città Sant'Angelo dove una ditta vorrebbe insediare questo impianto di trattamento dei sedimenti di dragaggio. Noi diciamo no per due motivi. Uno perché c'è un forte impatto ambientale e quel territorio pur essendo industriale ha vocazione agricola e non ha tutta una serie di servizi affini che potrebbero mettere in sicurezza il territorio. Secondo l'interpellanza quell'area nonostante sia stata denominata industriale non sarebbe dotata di fognature, impianto di depurazione, antincendio, relative vasche e infine i 5 Stelle muovono dubbi anche sulla società che dovrebbe occuparsi dell'opera. Abbiamo anche fatto rilevare che la ditta proponente è comunque stata interessata a una grande inchiesta quella sul dragaggio del porto di Pescara e chi viene interessato in un'inchiesta che riguarda smaltimento di rifiuti a nostro avviso, secondo la nostra visione della politica, non può continuare a gestire quel tipo di prodotto. Quindi ho presentato un'interpellanza in Regione Abruzzo depositata l'altro ieri mi dovrà rispondere il Presidente della Regione Abruzzo al quale chiediamo di intervenire prepotentemente e bloccare questa operazione. Ho interessato il Comitato Via per l'ennesima volta perché si dovrà esprimere a breve. Le associazioni hanno presentato tantissime osservazioni tecniche, specifiche e amministrative e ritengo che questa procedura vada bloccata. Spostiamo all'Aquila adesso perché la dismessa Caserma Rossi potrebbe divenire un centro unico abruzzese di accoglienza dei migranti. Noi con Salvini e Casa Pound dicono di no. Daniela Rosone. Potrebbero essere temporariamente alloggiati nella dismessa Caserma Rossi dell'Aquila ai migranti che arrivano in Abruzzo. L'ipotesi che la Caserma Aquilana possa divenire un centro unico potrebbe essere presto realtà. Secondo il capogruppo di Noi con Salvini in Comune, Emanuele Imprudente, questa soluzione che per ora è temporanea potrebbe divenire in futuro stabile. Attualmente, lo ricordiamo, sono 675 profughi ospitati nei centri di accoglienza temporanea della provincia, mentre il totale regionale è di 2498 con la provincia di Chieti a quota 664, quella di Pescara a 150 e infine la provincia di Teramo che ha colto 649 migranti. Qualche giorno fa sono arrivati all'Aquila ma solo di passaggio gli ultimi 40 profughi assegnati alle strutture di accoglienza delle altre province, 20 a Chieti, 10 a Pescara e altri 10 a Teramo. La città, secondo Emanuele Imprudente, non può permettersi ad oggi dopo il terremoto l'accoglienza dei migranti. In Abruzzo ad oggi le caserme dismesse, ricorda, sono due la Rossi, che prima ospitava il nono reggimento Alpini, oggi alla Pasquali dopo la chiusura del 33esimo reggimento Artiglieri Acqui e la Battisti di Sulmona. Il dubbio legittimo che viene, afferma Imprudente, è che si stiano cercando degli spazi pubblici già allestiti, colletti e quant'altro. Fermo restando, dice ancora che i rifugiati politici vanno sempre accolti, è giusto e meno dispendioso tuttavia aiutare chi si sposta per problemi economici in casa propria. Imprudente parla anche del rischio che i migranti possano essere accolti negli appartamenti del fondo immobiliare, che ci sono all'Aquila dopo il terremoto. Intanto in città è comparso uno striscione di casa Pound, con scritto Refugees Not Welcome, cioè i profughi non sono i benvenuti. Con questa azione vogliamo dar voce alla perplessità dei cittadini sulla trasformazione dell'ex caserma in un centro accoglienza, ufficialmente temporanea, ma che potrebbe trasformarsi in definitiva. Continueremo la battaglia contro questo business di pochi privati che lucrano sui lati appalti per l'accoglienza, detto Simone Laurenzi di causa Pound. Già in precedenza, lo ricordiamo, a Pizzoli, popoloso comune dell'Aquilano, erano comparsi degli striscioni. Era intervenuto il sindaco Gianni Anastasio per la rimozione, ma aveva comunque specificato, il primo cittadino, che a Pizzoli esiste già un sostanzioso numero di migranti ben integrati e che il comune dell'Aquila non poteva permettersi altro. Ricordiamo anche che nell'idea del primo cittadino Massimo Cialente c'era quella concreta di trasformare tutta l'area della Rossi in una cittadella dove raggruppare tutte le scuole aquilane. Andiamo a Pescara adesso. Il centrodestra, dopo numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, chiede all'amministrazione comunale di potenziare le pattuglie notturne della Polizia Municipale per garantire più sicurezza nella città. Sicurezza ancora al centro della polemica. Pescara diventa una città, preda dell'incuria, dei balordi e dell'accattonaggio. Il centrodestra torna a denunciare poca sicurezza e chiede un'intervento deciso dell'amministrazione per poter ripristinare ordine anche laddove pochi giorni fa sono state fotografate scene poco edificanti dai passanti. Noi lo stiamo dicendo da mesi che la città verse in uno stato di totale degrado, totale abbandono e non c'è una regia politica che governa dei processi fondamentali per la nostra città. Una città che vede in ogni strada, dalla periferia alle parti centrali, una incuria devastante, aiuole non manutenute, strade totalmente dissestate e poi c'è un problema molto percepito dalla popolazione pescaresa, ossia quella della sicurezza. Oramai tutti i giorni ci sono atti di vandalismo, spaccate, persone vengono aggredite. Sappiamo che la sicurezza non è un tema centrale di un'amministrazione comunale, però noi riteniamo e invochiamo altavoce che il sindaco Alessandrini si faccia sentire dentro il Ministero degli Interni per potenziare il lavoro già pregevole che le forze dell'ordine fanno. Così noi chiediamo che con insistenza che venga in maniera definitiva affrontato il problema del servizio notturno della Polizia Municipale perché potrebbe essere un deterrente fondamentale, così chiediamo come mai il Comune vuole fare un bando per degli stagionali, 15 stagionali, parlo della Polizia Municipale, siamo oramai all'11 agosto e la stagione volge al termine e quindi anche qui sommiamo e accumuliamo ritardi ormai incredibili. Il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso ha ricevuto a Pescara una delegazione del Comune di Farindola guidata dal Sindaco Ilario Lacchetta. L'amministrazione vestina ha rappresentato al Presidente due necessità. Un intervento contro il dissesto idrogeologico che ha colpito il centro del paese nel novembre del 2013 per il quale c'è già un progetto esecutivo del valore di 600 mila euro e il completamento della cittadella dello sport da dotare di terreni in sintetico del costo di 250 mila euro. D'Alfonso ha assicurato di riuscire a dare una risposta concreta con una tempistica adeguata dopo lo studio del caso nel dettaglio. Torniamo all'Aquila adesso. La chiusura di via Aldomoro e di via San Gabriele della Dolorata nel quartiere di Sanzisto sta creando disagi a non finire a famiglie e commercianti, residenti dei palazzi segregati senza viabilità alternative e commercianti ancora più piegati dai disagi. Una situazione paradossale che è anche dell'incredibile. Dal 22 giugno scorso via San Gabriele della Dolorata all'Aquila nella zona di Sanzisto è completamente chiusa. Il motivo? Un'antica fornace di proprietà privata che risulta pericolante al rischio crollo. Da anni così almeno 12 ci spiegano. Il guaio è che in zona insistono tantissime attività commerciali ma anche molte famiglie che abitano in condomini ristrutturati e che tra due mesi circa sono completamente tagliate fuori. Un disabile addirittura non può più uscire da casa. Commercianti e famiglie sono barricati e infuriati anche perché non esiste una viabilità alternativa e nessun intervento si sta portando avanti. Commercianti e famiglie stanno portando avanti tra l'altro anche una raccolta firme per chiedere al comune di intervenire al più presto. Come si può vedere anche dalle riprese qui spiegamente in via San Gabriele e da due mesi le famiglie sono completamente isolate di cui il problema più grande che a distanza di 50 metri da qui ci sono anche delle persone disabili. Se eventualmente dovrebbe intervenire un'ambulanza io non so realmente che cosa potrà succedere. Questa è la cosa più importante. Una situazione che è resa ancora più pesante dalla chiusura della vicina via Aldomoro interessata lo scorso 25 luglio da una frana che ha interrotto la viabilità nell'importante arteria di collegamento per la zona di Valle Pretara e per la quale c'è un'inchiesta della procura. La strada è stata messa a rischio crollo dall'intervento di abbattimento di un palazzo adiacente al manto stradale. I lavori di scavo delle fondamenta del palazzo hanno sottratto stabilità al manto stradale che è rovinosamente franato. La strada è chiusa a qualsiasi passaggio sia di auto che di pedoni per la salvaguardia dell'incolumità ma nessuna rassicurazione in ordine a un intervento di ripristino della viabilità è stata data agli operatori residenti del quartiere che hanno addirittura sentito parlare di oltre sei mesi di chiusura. Tante dicevamo le attività commerciali che alimentavano i servizi primati nel quartiere costrette ora a fare i conti con l'interruzione di affluenza dovuta senza dubbio al repentino blocco della strada. Queste attività commerciali che sono in questa zona sono già allo stremo visto che la crisi è già totale. Con queste chiusure delle strade sia di via Aldomoro che di via San Gabriele addolorata purtroppo non potremmo vivere a lungo. Il problema più grande è che le istituzioni in questo momento via San Gabriele è chiusa da due mesi. Ogni giorno dicono sì stiamo provvedendo, stiamo facendo ma in realtà queste cose non stanno andando avanti. Via Aldomoro che è una di quelle strade principali, in questo momento la viabilità è completamente chiusa, cioè per arrivare alle attività commerciali i clienti non sanno come fare. La cosa più importante è che fra qualche giorno ripartiranno le scuole e in quelle zone in cui la viabilità, pullman, scuole, poste, banche e quant'altro sono irraggiungibili. A Pescara da martedì prossimo sarà introdotta la carta d'identità elettronica. Tante nuove funzionalità e soprattutto maggiore sarà la sicurezza contro il furto dei dati. Un nuovo servizio dal comune di Pescara, in questo caso si parla di carta d'identità elettronica. Da quando verrà introdotta? Sì, da martedì iniziamo ufficialmente a consegnare le nuove carte elettroniche digitali. Una rivoluzione attesa in Italia da 19 anni e Pescara parte insieme ai primi 200 comuni d'Italia. Abbiamo 4 postazioni, 3 saranno in Piazza Italia e 1 in Piazza Grue, mentre nelle altre circoscrizioni non verrà ancora attivata in attesa dell'arrivo delle altre postazioni che il Ministero ci ha garantito. La nuova carta costerà 22,21 euro e verrà consegnata direttamente a casa dal postino entro 6 giorni. Diciamo che sicuramente è una rivoluzione che creerà qualche disagio al cittadino abituato a poterla riprendere direttamente e a pagarla anche molto meno, dato che è cartacea. Ma vero è che avrà con sé tantissimi vantaggi. Ricordiamo che su questa carta ci sarà l'impronta digitale, sarà molto più difficile clonarla, al contrario del passato, ci sarà più semplice andarci all'estero. In più sarà dotata di un PIN con il quale sarà possibile accedere a tantissimi servizi legati agli enti statali e comunali. Terzo giorno a Isola del Gran Sasso per la Tendopoli di San Gabriele. Il tema di imbattuto è quello della misericordia, tema caro a Papa Francesco. Paolo Renzetti. Padre Cordeschi, 36esima edizione della Tendopoli di San Gabriele. Quest'anno il tema è quello della misericordia, un tema più che mai attuale, fortemente voluto da Papa Francesco. Sì, noi l'abbiamo attualizzato, la misericordia si è fatta tenda, cioè il Papa ha detto che il nome di Dio è misericordia. È bellissimo pensare che questo nome di Dio, questa misericordia abita l'uomo, abita la tenda, perché l'uomo è la tenda di Dio, quindi l'uomo è il luogo della misericordia per eccellenza. Una Tendopoli che vede anche quest'anno tanti giovani provenienti da tutta Italia, ma anche dal Sud America. Sì, questo era un mio sogno, non so, forse lo sapranno tutti, ma degli amici miei nel giorno della mia festa, del 50 anni della mia professione, mi hanno fatto delle offerte, mi hanno regalato circa 6.000 euro e io ho avuto la possibilità di far venire da Venezuela questi ragazzi che da 20 anni in Venezuela e da 8 anni in Colombia portano avanti la Tendopoli. quindi sono in Venezuela, in Colombia, adesso andremo in Peru ed in Panama, stiamo vivendo questa bellissima esperienza. Siamo con Claudio che arriva dal Venezuela la prima volta in Italia in Abruzzo. La prima volta in Tendopoli, in Italia no. Come hai trovato questa Tendopoli, San Gabriele, questo ambiente così pieno di ragazzi, pieno di giovani. È un ambiente bellissimo perché là in Venezuela adesso tanta comunità insieme non si vede per la situazione. Una Tendopoli importante, si parla quest'anno, il tema è quello della misericordia, c'è tanto bisogno oggi di misericordia, di solidarietà. Sì, in questo tempo, in tutti i paesi, soprattutto Venezuela, la misericordia ci vuole tanto. E a Pianella si è svolto un incontro per presentare il recupero del simbolo della cittadina in provincia di Pescara, la Torre della Tolfa. Vestina News. Siamo qui davanti alla riproduzione di quello che è il simbolo per eccellenza, per antonomasia della nostra città, la Torre Civica della Tolfa, ovviamente realizzata questa volta secondo una lettura moderna che vuole vedere questo simbolo non più come luogo di difesa e di chiusura, di protezione, ma come un luogo di apertura alla cultura e al futuro. Il progetto appunto della Prologo di Pianella, che ha visto la realizzazione di manifestazioni importanti turistico e culturale come in Canti sotto la Luna, Lu Buongiorno, il Rosone d'Oro e da ultimo appunto la realizzazione di due pannelli turistico-culturali e della Torre Civica che vediamo qui alle mie spalle. Grande soddisfazione per questa iniziativa della Prologo, davvero un progetto straordinario che si colloca in quella che è la più ampia progettualità dell'amministrazione comunale ed in perfetta sinergia con questa. Certo, la Torre, il simbolo della identità che è presente nel nostro confalone, oggi viene recuperata con un intervento mirabile dell'architetto Cancelli ed è un modo per garantire ai giovani ricordare l'identità ma proiettarli verso il futuro. Il patrimonio di Pianella è stato messo a repentaglio nei decenni scorsi, infatti il simbolo è proprio questa Torre Civica. Il valore simbolico dell'ubicazione naturalmente non è quella che la Torre aveva nel periodo medievale. Ovviamente di integrazione, di inclusione, di facile fruibilità in quanto è all'ingresso di un istituto comprensivo. A Totea di Crognaleto in provincia di Teramo in programma il 17-18 agosto la decima edizione della Notte Azzurra fra gli eventi. In programma ci sono la Pompieropoli e il concerto di Roberto Vecchioni. Sindaco, la decima edizione della Notte di Totea avverrà quest'anno vari avvenimenti nell'ambito di questo appuntamento. Pompieropoli, poi il concerto di Roberto Vecchioni, tanti eventi per un'edizione sempre più importante. Sì, certo è un segno di passo. Decima annualità, ancora una volta l'associazione Prologo di Totea che io ringrazio per quello che è la valenza del territorio, per quello che riesce a concretizzare, ha fissato un punto di arrivo. Un importante cantante, un evento canoro di rilevata importanza nell'ambito provinciale che gratifica il nostro territorio. Un altro valore aggiunto è quello che quest'anno siamo riusciti a portare all'interno di questa manifestazione, Pompieropoli, che è un po' l'addestramento dei più piccoli all'attività dei Vigi del Fuoco. Totea ha inserito l'immagine dei Vigi del Fuoco con questa pompieropoli che è veramente molto interessante, un percorso ludico per i bambini, ma più che percorso ludico direi che è un'immagine dei Vigi del Fuoco che ovviamente viene mostrata e quale categoria migliore per veicolare la sicurezza e la prevenzione nell'ambito della nostra vita quotidiana, quale è quella dei bambini. Chemical Brothers e Paola Turci sono i due grandi nomi che animeranno il Ferragosto pescarese. Si parte domani proprio con i Chemical Brothers. Vediamo. Nuovo appuntamento per il cartellone estivo di Pescara, questa volta il 12 agosto. Si tratta di un concerto che ha solo due date in Italia, una delle quali è proprio Pescara. Sì, oggi presentiamo una serie di appuntamenti che scalderanno l'estate della nostra città da qui al Ferragosto. Il più importante è l'appuntamento con i Chemical Brothers, un evento in esclusiva per la nostra città, un evento internazionale con solo due date in Italia. L'abbiamo voluto fortemente nella nostra città e ci sarà il 12 agosto nell'area tra lo stadio e l'antistadio. Un evento importantissimo che farà arrivare in città tantissima gente e poi ci prepariamo per le altre manifestazioni. Avremo un Ferragosto davvero che si propone come un appuntamento importantissimo a livello nazionale perché ci sarà sia il concerto, la grande festa del Pescara Dance Festival all'Arena del Mare con la DJ Ellen Allen, anche lei è una DJ di fama internazionale, poi invece allo stadio del mare Nave di Cascella avremo il concerto di Paola Turci. Quindi si preannuncia un 15 agosto davvero molto importante, cosa che non accadeva nella nostra città da tantissimi anni e questo è un dato importantissimo appunto perché rilancia quella che vuole essere la vocazione turistica e l'economia del turismo tutta con degli appuntamenti davvero quest'anno straordinari, al di là della sfortuna del tempo siamo riusciti a programmare davvero un calendario importantissimo di livello nazionale. E invece saranno gli ASEAN DAB Foundation a spegnere le candeline del decimo anniversario del festival Pinetnie Moderne con il gruppo londinese e l'appuntamento è per il 14 agosto al Parco della Pace ovviamente. A Pineto. Decima edizione di Pinetnie Moderne, il festival della musica si svolgerà dal 12 al 14 agosto al Parco della Pace, tra l'altro quest'anno ci sono gli ASEAN DAB Foundation. Sì esatto, quest'anno è il decimo anno, festeggiamo il decennale, siamo riusciti noi dell'associazione Risvegli Sonori a portare per il primo anno un gruppo internazionale del calibro del ASEAN DAB Foundation direttamente da Londra, un gruppo che parla da solo, 11 anni che stanno sul campo, hanno fatto 11 LP, suonano nei principali festival internazionali e nazionali a pagamento, invece qui al Parco della Pace il 14 agosto è tutto gratuito insieme alle altre due serate. Il 12 agosto partiamo con i D-Darak che hanno aperto la manifestazione il primo anno del 2007, quindi con loro festeggio il ventennale e con noi il decennale, Alessandro Coppola e il frontman Salentino. Poi il 13 agosto ci saranno i Melon Mood con il reg, quindi la musica cambia e poi la chicca della Kermes il 14 agosto gli ASEAN DAB Foundation, tutto un evento gratuito. Noi dell'Associazione Resvedi Sonori abbiamo fatto veramente tanti sforzi per portarlo qui in Abruzzo, forse il festival più grande quest'anno fra tutti gli eventi. Vorrei ringraziare tantissimo tutti gli sponsor e anche il Comune di Pineto che ci ha dato una grossa mano e speriamo che il tempo insomma ci assiste e siamo pronti. Adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo ovviamente con il calcio di Serie A con il Pescara, ieri c'è stata la presentazione della Rosa 2016-2017 anche se in completa, ormai sembra fatta sul fronte mercato per l'arrivo di Ghiomber, difensore della Roma, in attacco. Il più vicino è Marcello Trotta del Sassuolo. Presentato il nuovo Pescara, quello che dovrà cercare di centrare la salvezza in Serie A, la Rosa non è ancora completa e col mercato aperto non sarebbe potuta esserlo per forza di cose. Anche se la società biancazzurra per bocca, in primis del presidente Daniele Sebastiani, lavora su tutti i reparti e conta di arrivare al primo impegno stagionale col Napoli quasi al completo. In difesa arriverà Ghiomber della Roma, ormai manca solo l'ufficialità. Il difensore è pronto a lasciare la Roma dopo che nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra la società giallorossa, l'agente del calciatore Venglos e il suo collaboratore Petras. L'operazione è stata definita e chiusa, il classe 1992 oggi partirà alla volta di Pescara. Il club biancazzurro nelle prossime ore limerà anche gli ultimi dettagli incontrando ancora gli agenti dello Slovacco e poi arriverà l'ufficialità. Non sarà l'ultimo innesto però, perché anche Gaston Silva è vicino a sposare il progetto del Delfino. Mia Aelovic lo ha bloccato per il match di Coppa Italia vista l'indisponibilità di Molinaro e dunque ci sarà ancora da aspettare. Discorso di attesa che potrebbe riguardare anche i due nerazzurri Yao e Nukuri, con cui c'è già un accordo di massima. In mediana c'è l'obiettivo Alberto Aquilani, le strade sembrano avvicinarsi e il giocatore potrebbe chiudere col Pescara un contratto biennale a 500 mila euro di base, più bonus ed incentivi legati a presenze, reti, obiettivi di squadra e personali. Il Pescara inoltre ha chiesto a Napoli il prestito di Grassi, attenzionato però anche dal Chievo, con Gaston Brugman che invece potrebbe essere ceduto da qui, alla fine della finestra di calcio mercato. Infine l'attacco, trotta in gol nel trofeo team di ieri con la maglia del Sassuolo non sembra però rientrare nei piani di Eusebio Di Francesco, del più vicino ai Biancazzurri. Con Mitrizza e Nicastro, il cui futuro è ancora incerto, nei giorni scorsi per l'altro nome è spuntato Federico Macheda, anche se attenzione alla situazione Iemmello che non ha trovato l'accordo con lo Spezia e potrebbe accettare le losing di Big di Serie A ed essere poi girato in riva all'Adriatico. Scendiamo in Lega Pro adesso perché oggi era il giorno dei calendari che riguardavano una sola squadra abruzzese. Il Teramo vediamo le prime otto giornate di campionato. Il Teramo esordirà il 28 agosto sul campo del Lumezzane, dunque in Lombardia. Questa è la prima giornata di campionato. Tra poco vedremo anche la seconda con il Teramo che alla prima in casa affronterà il Bassano. Prima partita al Bonolis, un campionato molto molto complicato. Sarà il 4 settembre Teramo contro il Bassano Virtus. La terza giornata di campionato, nuova trasferta per gli uomini di Lamberto Zauli a Pordenone su un campo di una squadra che sarà una di quelle destinate a fare un campionato dietro le favoritissime. Dunque altra trasferta molto lunga per i Biancorossi a Pordenone. Quarta giornata partita da non perdere perché al Bonolis arriva il Modena. I Canarini appena retrocessi dal campionato di Serie B faranno visita al Teramo. Quinta giornata di campionato. Qui c'è un po' un salto nel passato perché Lamberto Zauli ritroverà il Sant'Arcangelo. Si gioca al Valentino Mazzola. Sarà il 18 settembre. Quinta giornata di campionato Sant'Arcangelo Teramo. L'anno scorso il Teramo vinse 2 a 1. Sesta giornata il Teramo contro il Fano. Una delle squadre ripescate dalla Serie D. Impegno dunque al Bonolis. Altra trasferta molto lunga. Settima giornata sul campo del Sud Tirol. Dunque in Trentino. Teramo che nella stagione 2014-2015 perso una partita di Coppa Italia proprio sul campo del Sud di Tirol. Ottava giornata il Teramo affronta il Padova con il Venezia che invece se la vedrà contro la San Benedettese. Ovviamente noi vi faremo vedere nel corso delle prossime edizioni faremo un po' un riepilogo delle giornate di campionato che attendono il Teramo in Lega Pro che intanto ha a che fare con la situazione complicata del rinnovo di Stefano Amadio. Danilo Bulevardi è ufficialmente un giocatore del Teramo. Il centrocampista del Pescara è arrivato in bianco rosso e già ieri pomeriggio ha sostenuto la prima seduta di allenamento agli ordini di Lamberto Zauli. E lui in ordine di tempo l'ultimo tassello in casa diavolo che nel frattempo ha ancora a che fare con il difficile rinnovo di Stefano Amadio. L'incontro di martedì sera non ha sortito gli effetti sperati e nonostante si vociferasse di un incontro in mattinata con la dirigenza bianco-rossa il centrocampista sembra ormai destinato a lasciare il Teramo per accasarsi altrove. Troppo diverse domande offerta con la società del presidente Campitelli che proprio con l'arrivo di Bulevardi e lo spostamento di Peterman al centro sarebbe di fatto già coperta. Nelle prossime ore la situazione sarà più chiara. Quello che è certo è che si va verso la rottura con il club di via Oberdan per una serie di motivi, gli stessi che fino a questo momento non hanno permesso il rinnovo. Peraltro il Teramo non se la sente di tenere un giocatore col contratto in scadenza. Questione di motivazioni e di sirene di mercato che si farebbero più insistenti già a gennaio. Oggi i bianco-rossi affrontano alla 18.30 il Morodoro. Per me è il girone un po' più difficile perché soprattutto non per le squadre al vertice perché comunque tutti e tre i gironi hanno squadre molto forti. Ma soprattutto quelle media classifica l'anno scorso ho incontrato il Bassano, il Pordenone, la Feralpi, il Padova, sono comunque tutte squadre attrezzate per far bene. E in più ci sono quelle tre e quattro che hanno fatto le squadre per vincere. Quindi sarà sicuramente un girone tosto però secondo me noi siamo forti e secondo me ce la possiamo giocare con tutte. La società ha costruito una rosa competitiva su tutti i ruoli. Credo che sia un grandissimo gruppo che possa affrontare nel migliore dei modi questo campionato e penso che se la possa giocare alla grande in tutti i campi. In Serie D invece sono ufficiali i gironi. 162 squadre in totale. Le abruzzesi però sono state separate. Quattro nel girone F, due nel girone G. Nel classico girone F, quello al quale di solito partecipano le abruzzesi, sono state inserite il Chieti, il Pineto, il San Nicolò e la Vastese. Saranno insieme alle squadre marchigiane, molisane e romagnole. Avezzano e l'Aquila invece sono nel girone G, quello che comprende formazioni laziali, sarde e umbre. E questa era la nostra ultima notizia e vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento con Velola, rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo, la terza ed ultima edizione del nostro telegiornale questa sera alle 23. Buona continuazione di sera. Grazie. 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 Grazie.